Sì amore, ma chiedi alla mamma quale olio devo prendere? L'olio, quello fatto con le olive. Grazie, poi? Gli omogenizi di frutta. Ma tu hai sei anni. Tu prendili. Poi pelati, carne in scatola, 20 alti minuti di fagioli. Ma per chi è tutta sta roba? È per il Banco Alimentare. La giornata nazionale della colletta alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare compie 25 anni e torna anche in presenza il prossimo 27 novembre. Testimonial d'eccezione, Giorgio Chiellini che ha deciso di sostenere l'iniziativa con uno spot realizzato dall'Agenzia Amate che andrà in onda sulle tv nazionali e locali, sui social e sul sito di Banco Alimentare. Il calciatore della nazionale si appella alla generosità degli italiani che in questo quarto di secolo hanno partecipato alla colletta alimentare donando oltre 172.000 tonnellate di alimenti un aiuto reale e prezioso per le tante persone in povertà alimentare. Il gioco di squadra è fondamentale, solo così si possono superare i momenti più difficili. Con la pandemia il numero di persone in povertà è aumentato tantissimo. Per questo con Banco Alimentare vi chiedo di fare una cosa semplice che si ripete da 25 anni ormai. Il 27 novembre partecipa alla giornata nazionale della colletta alimentare. Potrai donare la spesa a favore di chi ha bisogno online o in più di 13.000 supermercati in Italia. Giochiamo di squadra, aiutiamo chi ha bisogno. L'invito di Chiellini è arrecarsi nei supermercati aderenti dove i volontari 145.000 in tutta Italia suggeriranno di comprare prodotti a lunga conservazione omogenizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati. I prodotti donati saranno poi distribuiti alle 7.600 strutture caritative convenzionate tra mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà e centri d'accoglienza che sostengono quasi 1.700.000 persone. Per chi non riuscisse a arrecarsi in uno dei punti vendita aderenti sarà possibile donare la spesa anche online dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it slash Banco Alimentare o acquistando le charity card di Epipoli. Allora prendo tutto e mi raccomando via la mamma di farla anche online.